bella a tutti ragazzi oggi siamo in un nuovo video oggi andremo su un nuovo episodio di the hung lower game siamo lasciati sempre con ok ci siamo lasciati con 15 di record nel secondo nel primo episodio questo sarebbe secondo episodio allora più di paio di più più di paio di meno credo più di paio vince tutto credo ecco qua ok sono nuovo qua allora shanghai più credo vabbè andiamo avanti ragazzi credo di più questo poi questo credo di meno no un milione che gatto strano che è quello lì vabbè vabbè se di nuovo qua famine 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 di meno braga raga scusate se non vi porto video sulla playstation 4 ma cioè preferisco adesso farli un po' sul telefono e quindi dopo a fine video vi faccio vedere una roba a fine video magari porterò una serie anche su quello su quel gioco lì ora dopo dopo vi farò vedere che gioco sarà allora fu da 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 vi farò vedere che gioco sarà allora questo di più dobbiamo mandare un po' questo credo di meno ok non so che sia se stanno fermando sempre a 6 non so vabbè allora di meno vabbè allora io credo di meno questo giusto questo credo di meno ecco allora non lo voglio far durare tanto questo raga lo so voi direte magari eh sono tutti cortissimi i video eh ma questo qua lo faccio durare 5 minuti eh neanche perché se no poi troppo lungo magari voi vi annoiate e intanto facciamo un po' di cagliate spero che avete visto il il video di instant boots boots se non si pronuncia così boots perché sono proprio proprio bravo così bravo con l'inglese quindi spero che avete visto lo scorso video questo è il secondo episodio perché ora lì non ha la faccia questo credo di meno raga cosa facevo lo ridico e lo faccio durare 5 minuti eh poi vi devo far vedere una roba allora qui meno credo che l'audi è più 7 milioni cavole santo questo di meno credo di meno il milan di il milan con balutelli giustamente oddio spero di arrivare a 10 ok siamo a 10 ciaga 11 spotify spacca attenzione 14 aspetta possiamo fare il record abbiamo fatto il record oddio di meno credo ok oddio aspetta possiamo arrivare a 20 aspettate raga aspetta oddio siamo arrivati a 20 21 oddio li stanno facendo tutti 23 24 eh ok è troppo bello preferito è arrivati a 24 ora raga ok adesso vi faccio vedere all'ecco questo gioco qua pokemon go ora vi farò vedere sono riuscito a recuperare il mio account e quindi adesso siamo un pochino così che togliamo direttamente ricorda durante il gioco ho preso attenzione alla cliente c'è il costante e beh guarda vado vado da un ponte guarda quando gioco cioè no raga non introdurre l'uomo che più è stato l'investimento di giochi pokemon go cioè come vedete io sono a casa mia quindi quindi ci credo che possa comprare i pokemon però ecco allora i miei pokemon sono questi devo migliorarli giustamente guardate voglio migliorarli un bel po' cioè facciamo un episodio a parte va per questi perché questo è un gioco ecco vedete questo qua vi porterà una serie credo che entro il sabato sabato mattina credo che vi porterò un video ma non sono molto sicuro beh prima di sabato vi porterò un video vi faccio vedere tutti bene tutti i miei pokemon e potenzieremo qualcuno poi sabato andremo le sporazioni oddio guardate sono due nuovi pokemon e le vabbè comunque comunque faremo un episodio a parte vi posso vedere tutti i miei dei pokemon e come si dice e potenzieremo dei pokemon e poi sabato mattina credo vi porterò un video cioè sabato mattina lo registrerò uscirà il pomeriggio un video di pokemon go dove andremo ad espor l'espor a cercare pokemon va bene ok spero che questo video sia tutto cioè credo che questo video sia tutto ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi ciao